C'è chi un giorno invece ha sofferto, e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto. E la grigia la vita, e la vita l'è vera, l'è vera, a scopere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, sempre un giorno di festa, ciao! Buonasera pubblico di Vivere la Vita, noi riprendiamo oggi il nostro viaggio raccontandovi frammenti di storie quotidiane dopo la Marcord dell'anno passato, del 2016. Qui accanto a me il professor Paolo Spiliati, che saluto subito e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buonasera professore. Buonasera a lei, sono io che ringrazio, perché mi permette di esporre tutti quelli che sono momenti di sofferenza, di delusione, o anche di soddisfazione. C'è tutto sempre che io ho vissuto come medico e come ho vissuto nei 56 anni che io sono qua, dei quali 30 come primario. Ecco, già c'è una sorta di presentazione, classe 1919, quindi 98 anni, un cervello da vendere, ma tanta grinda, tanta soddisfazione che noi giovani, lo voglio ammettere, non abbiamo. Quindi chapeau, tanto di cappello a Paolo Spiliati. Io direi che il primo tassello della sua grande vita è la professione di primario dell'ospedale di Sulmona, medicina generale. È arrivato nel 1960 e è andato via nel 1989 all'età di 70 anni, perché allora si andava in menzione a quell'età, ma adesso di pressa a poco con le nuove leggi è un po' così. Allora, professore, la prima domanda sorge spontanea. Che ospedale di Sulmona ha lasciato? Quale ospedale di Sulmona? Ho lasciato l'ospedale di Sulmona fra i migliori della regione, ma l'ospedale di Sulmona subisce un decremento, esattamente come tutti gli ospedali in Italia. Ma non c'è colpa di nessuno. È il sostituire un esame minuzioso sull'ammalato con le nuove ricerche, con i nuovi strumenti diagnostici. Si perde molto l'umanità, lo studente non incrocia più lo sguardo dell'ammalato quando studia per lavorarsi medico, ma si arricchisce nell'impiego di strutture, di apparecchiature di estrema profondità e anche di estrema affidabilità da un punto di vista diagnostico. Quindi non abbiamo perso la diagnosi. Forse addirittura potrebbe essere anche perfezionata. Si è perso, e qui veramente è di dolore molto accennarlo, si è perso il rapporto umano. Il contatto con il paziente. Il contatto con il paziente. Non dimenticando mai quello che a me diceva il mio maestro e che io ho detto agli studenti, a Firenze prima e poi a Chieti, ricordatevi che ciascuno di noi è una individualità biologica irripetibile. Ognuno è unico, no? C'è un'originalità. Poi noi ne parleremo anche ricollegandoci ai suoi studi sulla fede, sui cristiani. Di per sé non c'è un duplicato dell'uomo. Non esiste? No, non esiste un duplicato. Non esiste. Magari ci potrebbe essere un cromosoma solo, disposto. Comunque è irripetibile. Il che racchiude il grande interesse della medicina. Questo vuol dire che per il medico arriva un input diverso, no? Sempre un caso nuovo. Nuovo da un punto di vista fisico, come può essere nuovo da un punto di vista del comportamento emotivo del paziente. La sua psicologia, la sua mente, la sua cultura, i suoi allarmi, la sua fiducia nel medico. Ecco, l'abbiamo capito dall'accento spigliati di Firenze. Da Firenze nel 1960 è arrivato all'ospedale di Sumona con un apposito regolare concorso, dove è rimasto per 29 anni. Questi 29 anni come sono stati? Qual è stata l'evoluzione che ha avuto l'ospedale dal 60 all'89? Sono arrivato che c'era ancora l'ospedale vecchio ad Annunziata, in corso video. La cosa mi preoccupò un po', per dire la verità. Però trovai subito un grande rispetto e una grande civiltà. Si stavano quasi finendo i lavori del nuovo ospedale e quindi questo mi dette coraggio di rimanere qua. Ma c'è stato qualche momento in cui io, io parlo dell'agosto del 60, in cui disse, beh, preferisco tornare a fare l'assistente in clinica, piuttosto che il primario qua. Perché poi viceversa la cosa. Io ebbi questo compito, primario medico e direttore sanitario, che ho fatto per i primi tre anni. Ho fatto il sostenimento dal vecchio ospedale al nuovo, che ha costituito una novità assoluta, nel senso anche che invece di avere 30 ammieri ce ne volevano 90, perché aumentava molto. Poi è stato un crescendo. Ho trovato una collaborazione nei medici, che si sono trovati a fare i miei assistenti, o come d'aiuto. Una collaborazione fatta soprattutto di rispetto, ma anche di grande amore, di grande amicizia. E io sono sempre stato con loro. Io non ho mai comandato, non ho mai convinto, ho sempre concordato. Ecco, che modello di medico lei ha lanciato nel corso dell'esercizio della sua professione? E che tipo di medico lei era e volevano, che poteva essere, che gli stava a fianco il suo staff? Beh, un medico arricchito da un enorme amore e bisogno della musica. La musica è armonia e l'armonia è legge universale. Allora, io non avrei mai potuto fare il chirurgo, perché il chirurgo guarisce asportando l'organo malato, o una parte dell'organo malato. La medicina internistica deve ritrovare l'equilibrio e l'armonia fra il corpo nei suoi normalissimi componenti. Quindi è una musica anche quella. E allora io mi sono trovato avvantaggiato da questo bisogno della musica e da questo enorme interesse per la medicina, per curare. Io non ho avuto mai dubbi, avevo 5-6 anni e dicevo che avrei fatto il medico. E così è andata. E quella stessa armonia che avevo lasciato a Firenze, dopo 16 anni di assistente, quindi di sì signore, sì signore, sì signore, l'ho trovata qua. Io non voglio fare i nomi dei miei, ma tutti i miei colleghi che io ho avuto, ma non solo del mio reparto, anche di tutto l'ospedale. Qualcuno ha anche detto, professore, la sua presenza si sentiva a qualsiasi livello nell'ospedale di Solmona. Una presenza fatta di un impegno, soprattutto morale ed etico. Ma non avevamo forse le distrazioni di tanti strumenti, perché sono stati negli ultimi anni la comparsa della tomografia assiale, la risonanza magnetica, l'emissione di positroni. Avevamo noi, non so, il reografo. Abbiamo messo su non soltanto questo centro, ma anche parlando di Bennett o Benexol, avevamo anche un centro di terapia per la patologia dell'apparato respiratorio. E poi le attrezzature sappiamo che quando vanno a coadiuvare il medico servano. Anzi, noi si dice sempre che all'ospedale di Solmona bisogna dotarle, dotarle ancora di più attrezzature. Ma il punto è un altro. Ecco, è stata la sua, ci dice lei, una presenza discreta in ospedale, nel reparto. Però... È un esempio. Esatto, è un modello. Però questo sguardo discreto ce l'ha ancora adesso. Perché quando si lascia un luogo dove per tanti anni si è vissuto, oppure... Con attenzioni o con gioie, è marcato da gioie profonde. Un luogo professionale, non si dimentica mai. Che cos'è che non va, secondo lei, oggi all'ospedale di Solmona? L'ospedale di Solmona, guardi, è coinvolto come tutti i tanti ospedali. Io parlo anche con una certa competenza per quanto riguarda Firenze, perché c'è una mia nipote, che fra l'altro è venuta anche qua, invitata da noi, che dirige la scuola di reumatologia per i medici, sono cinque anni, di corso. Ecco, a Firenze è lo stesso dramma. E' la meccanica, la strumentazione che ha preso in mano il rapporto. Ed è venuto a mancare quel sorriso da malato. Buongiorno ragazzi, buongiorno professore, come succedeva a Firenze da noi. Quindi guardi che la stessa cosa avviene anche in Francia, avviene in Germania, avviene anche negli Stati Uniti. La sanità non tiene più conto della centralità della persona. Forse è questo il messaggio. Non solo, ma lei pensi che per una determinata patologia sono stabiliti determinati giorni di ricovero. Non si può andare oltre. Era un qualche cosa che si accennava già anche all'epoca mia. Però io facevo quello che la mia coscienza mi ha sempre dettato. E questa coscienza, per esempio, mi ha fatto essere... Ero felice, ma interiormente, che io fossi presente il Natale, la Vigilia, il primo dell'anno, l'ultimo dell'anno, l'Epifania, l'Agosto. Ecco, erano questi i punti fondamentali che io volevo. Un altro punto fondamentale era che io non volevo vedere i miei assistenti ciondolare per i corridoi. E quindi tutti i miei assistenti avevano... Ordine e disciplina sempre. Avevano la loro stanza col bagno. L'unico che non aveva bagno ero io. Ma perché sarebbe stato troppo comodo? Cioè, però, voglio dire, tutto questo che io le racconto fa parte di una memoria mia. Perché ho vissuto questo qui a Firenze con il professor Lunedèi, cioè colui che mi ha insegnato tutto. Io ero già docente in patologia medica. Lei ha insegnato, no, anche a Firenze. Sì, anche a Firenze. Patologia e critica medica. Avevo già due docenze universitarie, contenute a Roma, perché si torneva a Roma al numero chiuso. E più mi pare che due o tre volte è successo che il mio direttore, uscendo dalla sua stanza, in mezzo a tante altre persone con le quali io stavo parlando, discesse, spiegati, sì, professore, le chiavi dell'ascensore. Sì, ecco, professore, gli aprivo l'ascensore come un portiere. Ed questi sono esempi che sono rimasti ed erano una scuola. Paolo, stai attento. Sei questo qui, ma anche un essere umano uguale all'altro. Allora ecco che in quel mio scritto della lettura dei testi sacri parlo di che il cristianesimo annulla il dualismo. Ognuno di noi ha un ruolo, ha un compito, ha delle responsabilità, ma con lo stesso livello di dignità. Certo, la stessa dignità poi ognuno assolve in base alle sue potenzialità, ma anche al ruolo che ricopre perché, come diceva lei, il rispetto dei ruoli, lo sappiamo, è garanzia di ordine sociale. Però io le chiedo, professore, di illuminarci, non so se le chiedo troppo, perché, sempre parlando di ospedale, noi sappiamo che in questo tempo si vive una riorganizzazione di reparti di servizi ospedalieri con il nuovo piano sanitario regionale che si va a scontrare con l'orografia del territorio. È arrivato un decreto che classifica gli ospedali e dice sul Mona non ospedale di primo livello, ma ospedale di base. Ecco, qual è il parere sul modo di fare politica con la sanità? Qual è il suo parere? Il mio parere è, direi, veramente sconfortante perché adesso quello che è detta legge è il bilancio, l'economia, le spese. Però è anche comica tutta questa cosa, dico comica, perché con tutte le analisi che vengono fatte, da Torino fino a Palermo, e questo è il sistema, che hanno sostituito quello che era invece la semiotica, cioè lo studio dell'ammalato con calma, per cui poi le nostre ricerche erano già orientate verso una certa patologia. Oggi è cambiato il rapporto, non è soltanto sul Mona, è cambiato dappertutto. In qualsiasi ospedale ci saranno certamente dei medici che ancora si danno da fare, ma come diceva all'inizio di questa sua domanda, c'è un certo tipo di durata di decenza per una certa patologia. Cioè, ma se lei è un soggetto con una bronchite e me lo tiene anche venti giorni di più, guardi che questo, no, devono essere sette giorni, l'ammalato deve essere operato, e vedi molti malati vengono, o in chirurgia, vengono portati quasi giorno avanti, se non poche ore prima dell'intervento, per non far misurare troppo le cose. Viene fatto riparlare di sul Mona, ma io ho visto le mie conoscenze con Roma, alla mia conoscenza con Firenze, ovviamente, è così dappertutto, è un dolore dappertutto, abituati come noi eravamo ad un certo tipo di medicina. E ancora i pazienti sono... Certo, potremmo dire anche però che l'ospedale di sul Mona, quindi per non parlare degli altri, ma l'ospedale di sul Mona è proprio per il fatto di questa sovrapposizione della strumentalità della ricerca attraverso apparecchiature, è proprio in questo spirito che l'apporto umano e il sorriso del medico quasi raddoppia il proprio valore. Quindi l'ospedale di sul Mona, a differenza di un ospedale di una grande città, non voglio dire che ci si dà tutti del tu, ma poco ci manca. Il tu è una conquista, non è un modo di parlare, è una conquista il tu. Proprio per questo forse io direi è recuperabile il piccolo ospedale, dovrebbe essere piccolo in confronto a Pescara, a Teramo, insomma, è recuperabile proprio per questo, però deve essere consapevole il medico, cioè rendersi conto, oggi l'ho detto io e potrebbe essere tutta una mia idea, però se il medico riesce ad essere consapevole, proprio per questa sovrapposizione della strumentazione è proprio per questo che diventa invece importantissimo l'aspetto umano. Diciamo una sanità più vicina al paziente in termini di umanità che poi anche quello che gli utenti cercano in un momento di degenza ospedaliera, trovare un personale, trovare uno staff medico qualificato, perché questo va detto, perché l'ospedale di Sumuna bisogna potenziarlo anche dal senso, con un personale qualificato e con un personale che sappia assecondare anche le esigenze umane, perché in quel momento c'è un malessere se c'è una degenza ospedaliera. Ecco, però io insisto su questi reparti da razionalizzare, da cancellare. Ecco, prima o fra tutti il punto nascita, noi sappiamo che si è riaccesa la battaglia, proprio in questi giorni di neve, di gelo, di bufera, abbiamo raccontato il caso di una partoriente che si è messa in gammino da Castel di Sangro, ha incontrato le condizioni climatiche avverse, quindi è arrivata a Sumuna dopo quattro ore, giusto in tempo per dare la luce a una bella bambina. Lei conosce l'orografia, professore, sa che questo è un territorio montano, che ci sono dei paesi come Scanno, come Campo di Giove, ma anche come l'Alto Sangro, Castel di Sangro, Roccaraso, sa anche il bacino di utenza che serve all'ospedale di Sumuna. Quanto è folle questa scelta, ad esempio, di togliere punto nascita o di razionalizzare? È veramente una scelta folle, come lei ha detto, è una pazzia, una pazzia che ricade poi su una prestazione medica che sembra colpevole, il medico addirittura colpevole, in realtà il medico è vittima ed è travolto da alcune esigenze puramente economiche, ed è posso dire che non è di oggi, ma in maniera sottile e strisciante era accaduto moltissimi anni fa. Dato che la mia laurea risale a 1944, quindi lei come vede sono moltissimi anni con il camice bianco, le posso dire che nel 1948, quindi ero già un assistente da quattro anni in clinica medica, fui chiamato dall'INAM, da un dirigente dell'INAM di allora, l'Istituto Nazionale di Assistenza a Malattie, il quale mi ricordò, guardi che questo l'INAM è assistenza a malattie, se non sono malati, lei non creda di poterli far contare, devono essere malati per poter avere l'assistenza. Lei ha fatto 12 visite ad un ragazzo di 12 anni con una priorità studativa, dico sì, forse ne avrò fatte anche di più, magari ho messo 12, no, lei capisce proprio no. Ecco, in quel giorno lì, di febbraio del 1948, io disse allora guardi, mi cancelli? No, ma lei è uno dei primi, guardi, mi cancelli? No, se io devo trovare un altro impiegato che mi viene a dire che ho fatto troppe visite ad un ragazzo di 12 anni con una priorità studativa a domicilio, ecco già lì ci fu, però noi medici ci siamo rivellati a tutto questo. C'è stato un lungo periodo in cui abbiamo cercato che la nostra professione fosse riconosciuta di altissimo valore, è di altissima dignità, guardi che non c'è mica soltanto la prestazione del medicamento o della ricetta, credo sia di tutti, devi dire, ho sentito il campanello di casa, è il medico che sale, già mi sento meglio soltanto a pensare che sta arrivando il dottore, già mi sento meglio che sta arrivando il dottore. Ecco, perché si è perso anche questo rapporto? E' stato sostituito dalle apparecchiature, dagli strumenti, ma anche da certe condizioni. L'economia sta dominando. L'economia sta dominando. Ecco, noi sempre riguardo questo modo di razionalizzare, è chiaro quello che contano, ci dicono, sono i numeri. Ad esempio 500 parti va bene, sotto no, ma anche i numeri come bacino di utenza per classificare l'ospedale. Quindi sì i numeri e no le persone, questo è un po'... Ma te pensi, un nostro malato qui, che è nel nostro reparto di utice di qua, di terapia intensiva, coronarica, cardiologica, cosa vuol dire anche poter avere una certa facilità nel vedere la moglie arrivare a trovarti? I fili che si avvicinano nelle ore di passaggio. Ma quando comincia a esserci da 60, 30, 50 chilometri di distanza, allora vede che è annullato anche tutto quel valore enorme che era il volto della persona cara. Perché non tenere anche conto della condizione orografica di questa posizione? Durante l'inverno, oggi per esempio con la neve, ma qui ne ho viste tante perché essendo io da 50... Perciò lei sicuramente di classe è svariata. Sa che il tempo può salvare una vita, il tempo può salvare una vita, cioè poter intervenire entro i tempi minimi di un passaggio. Allora perché l'ambulanza suona nelle città grandi o anche piccole, suona con una sirena per farsi spazio, per poter modificare un semaforo, che tanto sappiamo benissimo che dopo 30 secondi diventa verde, ma no, no, anche quei 30 secondi possono essere il grandissimo valore per salvare una persona. Allora tutto questo viene dimenticato, si porta in un ospedale con poche cose, poi si va, andiamo da altre parti, magari c'è la neve, e i familiari che non si possono arrivare o che devono affrontare dei sacrifici enormi. E poi un'odissea per tutte le presenze che arrivano. Annulliamo anche l'affetto, l'amore, l'aiuto. Il discorso è chiaro, ecco, qual è il suo input, suggerimento, impulso, appello monito alla classe, alle forze politiche, per ripensare una gestione, una programmazione diversa sulla sanità? Io vi ricordo di aver fatto un intervento nella sala comunale ora a giugno, quando dissi il politico che nessuno l'ha obbligato a farlo, lo ha scelto. Il politico deve garantire diritti e interessi della totalità sociale, cioè ritenersi al servizio della totalità sociale. Quando io dico diritti e interessi intendo dire non soltanto l'intervento rapido il più possibile in determinati casi di patologia, ma anche l'immenso valore dell'affetto, dell'amore di una persona cara, di una moglie, di un figlio o del marito e viceversa, dell'amico caro, ecco, questi vengono distrutti, questi rapporti umani, fatti di sorriso, fatti di una mano che stringe la mia, vengono distrutti. Quando già e quante volte abbiamo mandato a casa malati gravissimi, perché desideravano di morire, e poi abbiamo saputo che una volta arrivati a casa cominciavano a migliorare, avevano rivisto la loro stanza, la loro camera, qualche mobile che li ricordavano, c'è un enorme valore anche dell'emozione, della psiche, non c'è solo materia, c'è corpo, c'è anche anima, c'è spirito, un enorme... Ecco, Sulmona, se venisse condannata come sembra che debba essere condannata, si deve annullare tutto quello che è amore, che è sentimento, si tralasciano le ansie dei familiari i quali devono affrontare strade, curve, magari con la neve oppure con la pioggia, con di notte, enorme importanza, quanti malati, ho detto all'inizio, di questo mio discorso, sono migliorati una volta tornati a casa, perché hanno rivisto le loro mura, i loro mobili, guardi che la psiche esiste, esiste. Qui non posso dire altri esempi, perché c'è uno che è proprio grosso, ne paura, è un modello da ripensare, e lo può anche tagliare, ma comunque ha avuto tanta paura che se l'è fatta addosso. Succede. Cos'è questo? A livello di pura emozione c'è stata una contrazione dell'intestino. E dai da questo... La psiche sortisce un effetto, no, nello stile di vita della persona, questo è evidente. Sì, ne batte il cuore, perché? Perché ho avuto un'emozione, ho visto una cosa, ho trovato una persona cara. Perché tutto questo, guardi, viene annullato, viene ridicolizzato, dimenticato, non ha nessuna importanza. Qui sto a vedere questo ospedale, in che punto si trova, ma guardi, c'è la montagna. Quando i malati di cuore, dentro questo ospedale di Sartiano in Toscana, devono raggiungere l'ospedale, nuovo, enorme, enorme, hanno 40 minuti di strada, bella, tutta fatta di curve, curvette, belle villette, ma 40 minuti. Ma non è soltanto l'ammalato. Allora, quando noi si distaccano e si portano a grandi ospedali con la lontananza, noi si rinnega il valore dell'amore, il valore del sentimento, che lega una famiglia, la famiglia, l'affetto. Io costringo una moglie o un marito o dei figli a percorrere chilometri e chilometri, per poi magari stare lì un'oretta e poi andare via. Beh, come vedete c'è un grande patrimonio del professor Spigliati. Noi ci rincontreremo per dire tante cose, perché non è stato solo un medico, ma anche è un uomo dedito alla cultura, all'arte, alla musica, alla fede. Ecco, dalla lettura dei testi sacri, nel senso della nostra esistenza, uno dei grandi testi che ha realizzato, anche perché poi si è integrato con il tessuto sociale della città di Sulmona, non solo dove ha lavorato per 29 anni, ma da dove vive dal 1960, quindi dalla bellezza di 57 anni. Ci siamo concentrati solo sulla sanità, sulla sua professione di medico e chiudo proprio così. Con un appello, per chi decide di fare medico oggi, qual è il consiglio di un esperto? Beh, è molto difficile, perché in un mio scritto didattica di etica medica appunto ricordavo che uno si laurea senza aver mai incontrato lo sguardo di un paziente, si va avanti a tra forza schemi, proiezioni, suono artificiale per sentire come si respira quando c'è un'asma bronchiata a differenza di uno scompenso cardiaco, ma è la parte umana che è venuta a mancare. E allora quel racconto che io le facevo prima, quello del tedesco, che ha ringraziato me solo perché nel momento in cui lui poi piano piano si è spento... L'abbiamo fatto a microfoni spenti, un piccolo accendo lo possiamo fare, breve però. Sì, ecco, durante la guerra avevano chiamato noi studenti, studenti di medicina del quarto e del quinto anno, e fra i feriti che arrivavano nell'infermeria e era con la divisione Venezia, c'erano anche un tedesco, c'erano stati diversi dei tedeschi, ma insomma c'era anche un tedesco. Chiedeva in tedesco un medico, un medico. Mi sono avvicinato, noi eravamo studenti del quarto anno, del quinto anno. Ecco, si è spento stringendo la mia mano. Io ero vicino, gli dissi che ero un medico italiano e stringendomi la mano ringraziava. E questo suo, danke, danke, danke. Grazie, grazie. E poi? È divenuto come un soffio, come un vento. Non c'era più suono, solo le labbra. Vedevo che ringraziava, non sentivo più. Poi si è spento anche il movimento delle labbra. Ringraziava nel momento del passaggio dalla vita alla morte. Quel camice bianco che io avevo, mi è sembrato che fosse luminoso, come quello di un angelo. E quindi auguri a tutti i camici bianchi, perché siano ispirati da tali valori, tali sentimenti. Noi ci dobbiamo fermare per questa puntata, l'avete visto, carica di emozioni. Visto che abbiamo sempre parlato di psiche, ringraziamo per questo il dottor Paolo Spigliati. Alla prossima, professore, perché ha tante cose ancora da dirci e da raccontare. Sì, io vi ringrazio perché mi avete dato questa possibilità di parlare, ma anche di liberarmi, è arrivato alla mia età. Bisogno di raccontare. Bisogno di raccontare. È un bisogno ed è un impegno morale, perché lei potrebbe dire, professore, dunque lei, sento che l'hanno richiamata a sottolinearmi in guerra, quando eravate ancora studenti del quarto e quinto anno, poi lei è sempre stato, non ho fatto il medico fuori, sono subito entrato in reparti di critica. Quindi da me è stata un'attività medica critica, perché il medico da solo è una professione acritica, poi quando c'è una difficoltà si ricovera. E stando lì dentro io, sì signore, sì signore, sì signore, sì signore, per 16 anni, e poi tutto è un tratto, sì signore, a me. Però, come ho detto all'inizio, lo ricordo ancora, non ho né comandato né convinto. Ho sempre concordato. concordato, è ammaestrato. Va bene, grazie, grazie a Paolo Spiliati, grazie soprattutto al nostro pubblico, che ci ha seguito con pazienza e con attenzione, e l'appuntamento con tante altre storie da raccontare per lunedì prossimo su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. Buona serata e viva la vita. C'è chi un giorno invece ha sofferto, e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto. che avvita la vita, e la vita l'è vera, l'è vera, a scopere l'ombrera, l'ombrera, ti ripara la testa, sempre un giorno di festa. Ciao!